Salve a tutti signore e signori, sono Luca8494, benvenuti su Mafia 2 Demo A voi mi state chiedendo, ma perché Luca hai scaricato la demo? La risposta è che non avevo abbastanza soldi per comprare il mio gioco originale Questa ragazza è a sorpresa, anche se sono un po' emozionato Cioè dopo 4 mesi, forse anche più di 4 mesi, finalmente sto contenendo i gameplay commentati Finalmente i gameplay ragazzi, i gameplay stanno ritornando, sono ritornati anche Ok, senza perdere tre ore a parlare, voglio subito cimentarmi dentro il gioco E per prima quattro, la musica se no magari puoi coprire Tutti sanno che godere il copiere, giusto? Tutti, cioè gli youtubers, vabbè, tutti adono il copyright Ed è per questo, ed è per questo che non voglio assolutamente che mi beccano una licenza Che detto magari la musica è troppo copyrightata, dovresti fare un altro video magari senza musica E invece no, perché la, perché il copyright? Fa schifo per tutti, vabbè, adesso senza perdere tempo, voglio subito mettermi nel gioco Perché sono emozionatissimo Io vero onestamente, c'ho già giocato a Mafia 2 Però sulla Playstation 3, sì, ho la Playstation Quindi non c'erò la 4 perché non ho soldi per comprare la 4 L'ho giocato sulla Playstation Però onestamente l'ho anche giocato sul computer prima di fare questo video L'ho giocato sulla demo E infatti peccato che non ho l'originale, non c'erò il gioco completo Perché anche, a parte c'era l'offerta che costava, c'era l'offerta di 80% che costava 6 euro Adesso costavamo 30 euro Vabbè ragazzi, ci mettiamoci, non parliamo più Ci mettiamoci dentro il gioco Perché questo, questo gioco domina Infatti siamo dentro la mafia italiana Anche perché sono italiani, quindi perfetto E buona visione raga E questo è il tizio Sì, questo è Vido Un vecchio amico mio Ah beh comunque ragazzi, ti dico, c'è, questo è come se fosse un GTA negli anni 50 Infatti è talmente bianco e nero che siamo negli anni 50 Eh, è bianco e nero Cioè, mica potessero a colore Cioè, trovo questo pezzo a colore Ma tutto il resto è Cioè, questo pezzo è in mia gomma Ma tutto il resto è a colore Quindi io dico, ma che senso, ma Che senso a fare un gioco dei anni 50 Anche se non è vabbè È solo ambientato negli anni 50 Cioè, che senso a farlo a colore Meglio farlo in bianco e nero Lo vedo, magari rispecchia tutto il suo tempo Ok, adesso zitto, dai Sto zitto, fino a una volta sto zitto E poi vi faccio vedere più male Comunque ragazzi, questo personaggio, questo protagonista Si chiama, come mio nonno si chiama Vito Quando vi dico il cognome Potreste essere furbi Andate a cercare su Facebook Uh, chi è Vito Colletti? Chi è Vito Colletti? Vabbè, è il telefono più moderno di tutti i tempi Ma io non ho capito questo Quindi Vito ci ha addormito e ci ha saltato già con i vestiti tutti messi Vediamo tra poco Cioè, l'ho saltato tutti i vestiti già a me Cioè, no, è iludio Magari per me senza il Gia Ma che ne sai Sei già vestito? Incontra la Gio e Henry A miser lei Io non dico Henry Dico Henry Potter Che magari poi vi faccio vedere Aspetta, quanto poi non laggava così tanto Quando non facevo i video comunque Eh, io ho tento bello Eh, beh, a me l'ha detto bello sta signora Fai lei bruttissima Talmente brutta che sembri Una puttana Ok, senza offesa signora Mi devo calmare Perché sono troppo agitato Allora ragazzi La sfiga è che ci sono Solo 9 minuti o anche 10 minuti Per vedere tutta la città Se poi finisce il tempo Non posso più giocare Da quanto ho capito io No, il taxi non prendo perché Fin da GTA 4 che ho dei tassisti E secondo questo è un GTA ambientato Ne ogni 50 E così, così Rubo una macchina Ma non questa perché fa schifo Una macchina rossa Eh, che la macchina rossa è perfetta Eh, macchina rossa No, e tu usci dalla macchina allora Ma cosa ti ho fatto? Visto, macchina gratis Senta anche di comprare Già gratis la macchina Attenzione Che è morto Si ripara dentro la macchina Scappate E passo Eh, mica Ho ruotato la macchina Sono già pazzi Magari Vedete se l'ho ucciso E la deve essere che sarei passo Se sono solo Ho ruotato la macchina E chi? Che non si La porterà aperta Vabbè La porterà aperta così Fa stile Fa swag La porterà aperta Faccio pure fine a mano Ragazzi, vedete che non ho la patente Questa non ho la patente Nell'area e neanche nei videogiochi Quindi sarebbe già un casino I miei cerni monimici sono i tassisti È il taxi Il mio cerni monimico Eh E se non è E' quello che mi piace Se tu mi dà una patente E tu mi dà una patente Ma il tuo amore Non pagare la mia patente Non ho bisogno E non ho bisogno E non ho bisogno Guarda, ho fatto rally Con le macchine Di anni 50 Ho fatto rally Con questa macchina Cioè GD steve Di anni 50 rally Vi rendete conto Perché non c'è la moto Se non magari poto fare la moto GP Listo, ho detto che la città Non c'è la città Non so se si capisce niente. C'è la musica altissima, non me la faccio. La musica bassissima almeno dai. La musica non metto niente perchè magari poi copyright. Ah, molto meglio. Vabbè radio, in me ne frega la radio. Fatto? Ok, a posto. Ora è molto meglio. Sotto oltre la musica, la musica della radio c'è ancora. Ah no perchè non ho toltre la musica della radio, Sotto oltre la musica del gioco. Appartamento 233, che sembra un film ora. Appartamento 233. Ecco il nostro Joino che dorme con le gambe raccomaciate. E questo è Henry Potter. Che invece di essere Henry, di chiama Henry. Dove sei Henry? Sicilia. Ah, pensavo fosse un comunista, meno male. Come lo tagliamo? Eh, anche Hitlers è per questo. Ma che simpatico, Joino. Ma che simpatico. Io sono stato in Sicilia. Vi devo dire che non sono siciliano, però sono stato in Sicilia. Vado sempre in Sicilia in vacanza. Quindi senti i personaggi di un video gioco parlare in siciliano? Mi appare una felicità all'improvviso. Ah, io lo so che cos'è Clemente. Tutti pronti per la battuta? Clemente è un deficiente. Non può fumare dalla finestra, porta sfortuna. Sì. Ha detto che era troppo vecchio per il viaggio. Mussolini l'ha fatto arrestare. È molto in peggio. Non c'è, non nemmeno restituito il suo corpo per il finale. Oh, che cazzo. Bad story. E come è che fai così bello? Arrivano quelle armi... Eh, italiano, non puoi far parlare mai questo italiano. Vito sei un genio. Vito, mira al bastardo grasso. Dobbiamo farlo fuori prima che... Lo sfarai a Gio? No, no, perché Gio è un bastardo grasso. Lo sfarai a lui allora. Delle armi? Anche tu hai le armi, invece. Che è un genio. Ecco perché dicono che la mafia fa schifo. Almeno in questo gioco la mafia è una bella cosa. E' per questo chiamo Gio. Sì, ma io no. Ma sei servito da uccidere Grassone. Perché non posso uccidere Gio? L'unico Grassone che conosco qua è Gio. E' Gio. E' per questo chiamo Gio. Sì, ma io no. Sì, ma io no. Ho anche fatto questo. Sì, ma io no. E' una buona strada. Non è verile. Ma questa è la logica di un uomo è diversa. Ctr, che ctr... Ma la cosa che mi sorprende... Dov'altro l'altro sta pistola guarda lì in più a viva Ah, è ancora vivo in questo momento Non c'entra niente se no poi là, ma pure in altri giochi li becco sempre alle porti basse Siamo dentro la macchina, non lo faccio a fare Non posso far scappare quel ciccione di merda Ma il ciccione è Gio, non ti sei ancora guarda che bisogna ammazzare Gio, madonna, non lo capisce Non vuoi che non sono un'eroina Faccio bus o sfondo? Polizia della mafia, tutti giù per terra Questa è una polizia della mafia, molto logica Non ci sono un'eroina